Lo sport in collaborazione con Dai più valore alla tua casa Fiali Pegaso, i veri mobili artigianali veniti in legno massiccio Una grande esposizione per arredare con mobili di qualità a prezzi imbattibili E in più tutta la convenienza di finanziamenti personalizzati All'interno del punto vendita Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi e Alessandria Visita il sito pegasomobili.it Siamo alla pagina sportiva con le anticipazioni Prova del 9 per l'Alessandria Calcio Che domenica pomeriggio alle 16.30 Sarà impegnata con la Gianna Erminio In uno scontro verità per risalire la china E per far dimenticare ai tifosi un momento di crisi profonda In terra lombarda i grigi dovranno dimostrare Che i passi falsi sono alle spalle E che si può voltare finalmente pagina Ma la Gianna Erminio, che non sta messa molto meglio degli uomini di Mister Sellini Non sarà certo a guardare Anche perché finora ha comunque dimostrato di avere molto più mordente E di credere di più nelle proprie possibilità L'Alessandria dovrà puntare sulle fantasie di Sestu e Bollomo Ma soprattutto dovrà avere più credibilità di quanto non ne abbia avuta fino a questo momento In Serie A rispettivamente la Juventus domani sarà impegnata alle 18 fuori casa con il Milan Mentre il Torino domenica sera alle 20.45 in casa con il Cagliari I bianconeri dovranno assolutamente vincere se vogliono rimanere tra le prime tre in classifica Con il Napoli impegnato con il Sassuolo E l'Inter che lunedì sera dovrà affrontare fuori casa il Verona Attualmente in zona retrocessione Questa era l'ultima notizia relativamente allo sport Ora il meteo e la rubrica delle notizie utili Grazie per averci seguito Arrivederci alle prossime edizioni Pegaso Sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi e Alessandria Visita il sito pegasomobili.it Il meteo In collaborazione con Ognuno di noi merita attenzioni specifiche e servizi su misura Utili al mantenimento del proprio benessere Per questo la farmacia Sacchi di Alessandria È la scelta giusta Trovi il punto salute con autoanalisi del sangue Rivelazione parametri cardiaci ICG Oltrepressorio e cardiaco Farmacia Sacchi Ad Alessandria Corso Acqui 36 Da 80 anni al servizio di una comunità Farmacia Sacchi Domenica 29 ottobre Per grandi e bambini Un intero pomeriggio misterioso Al castello della Manta Dedicato alle famiglie Tra avversimenti, sorprese, storie di fantasmi Antiche leggende Si andrà alla scoperta del lato più oscuro del castello Mati di 31 ottobre Nel giorno delle streghe e delle zucche Il castello della Manta Offre un'imperdibile occasione Di vivere la notte della paura Immersi nell'atmosfera ideale Per ascoltare gli avvincenti e tenebrosi racconti Di personaggi eterei Strane presenze che vagono per le sale del castello Tra sussurri, rumori e bisbigli Le stanze del castello magicamente si animeranno Di inquieti esseri Per festeggiare la notte del mistero Vi aspettiamo Per informazioni fai Castello della Manta Cuneo Telefono 0175 87 822 Oppure faimanta.fiocciola.fondoambiente.it O www.fondoambiente.it